Domenica 6 agosto a Portopallo di Menfi si svolgerà la quarta edizione della Inicon Sailing Cup, veleggiata per categorie aperte a tutte le classi veliche, derive, catamarani, crociera, gran crociera, mini altura e vele latine. Gli appuntamenti collegati alla manifestazione avranno inizio sabato 5 agosto, mentre domenica si svolgerà la gara e la premiazione per tutti i partecipanti, previa redazione di un ordine di arrivo per classi. I dettagli in queste interviste. È una veleggiata che si chiama Inicon Sailing Cup alla quarta edizione ed è un'open aperta a tutte le classi veliche. Non c'è una vera e propria gara perché poi alla fine verranno premiati tutti. Quello che vogliamo trasmettere è far vedere ai bagnanti, a tutti i presenti, intervenuti e quanto è bello lo spettacolo delle barche a vela sul mare, in questo caso di Portopalo. Questa manifestazione è già la quarta edizione e quest'anno per la prima volta abbiamo fatto rete con delle sezioni della Lega Navale che alla fine è una grande famiglia e grazie a loro ci sarà anche la presenza di barche di altura che a Portopalo non possono atterrare, non possono entrare perché il porto si trova nelle condizioni tutte note, insomma insabbiato e pieno di posidonia. E questo noi lo facciamo anche per sensibilizzare la comunità e le istituzioni su questo problema, facendo capire quanto è bello lo spettacolo e quanto può portare anche in termini di sviluppo turistico di un territorio. La manifestazione quest'anno è anche inserita nel palinzesto di Membri Città Italiane del Vito 2023, infatti nel programma che ci sarà inserito anche un momento di degustazione con un enologo degustatore internazionale. Ricordiamo soltanto tutte le classi che potranno vedere gli appassionati? Sì, ci saranno le derive catamarani, vela latina, poi ci saranno le derive mobili, quindi le barche a chia, gli yacht di crociera, di gran crociera, quindi d'altura, queste sono le barche che parteciperanno. Questa gara ha previsto anche un momento di rete, di coordinamento tra tre diverse sezioni della Lega Navale, quanto è importante fare a rete? Questa è la cosa più importante, secondo me, oltre a diffondere e promuovere la cultura per il mare che la Lega Navale fa da sempre, stiamo partendo con un progetto per fare capire a tutti che la Lega Navale è unica, è un'unica famiglia, quindi stiamo promuovendo questa partecipazione tra le nostre sezioni. È importantissima, sarà la prima di una serie di alleanze che stiamo promuovendo. Come si sta sviluppando il diportismo anche nel Trapanese, nel suo territorio? Allora, il diportismo va avanti, diciamo si sta sviluppando, soprattutto con la vela, è bello vedere tutte queste imbarcazioni perché danno uno spettacolo meraviglioso, tra l'altro coinvolgiamo molti giovani, molti ragazzi, soprattutto i disabili e a noi siamo orgogliosi di portare avanti questo sport. L'importante è capire una cosa, le istituzioni sono fatte da persone e nel caso in questione le tre Lega Navale si sono incontrate anche perché si è instaurato un bellissimo rapporto fra i presidenti, Gian Piero Tilotta di Mazzara del Ballo, Gnazio Amato di Portopalo di Menfi e me, quindi c'è intanto un gran bel rapporto di amicizia. E' l'idea proprio di fare rete comune per diffondere quelli che sono gli ideali e le finalità della Lega Navale, che è quella della conoscenza del mare e dell'amore del mare. Quindi c'è questo desiderio proprio di stare assieme e di fare assieme cose importanti. La possibilità domenica di vedere tutti questi natanti è anche un modo per sensibilizzare chi volesse avvicinarsi a questo sport? Assolutamente sì. Noi, l'evento sarà nella parte antistante Portopalo, quindi non sarà visibile né da Sciacca né da Mazzara, bisognava scegliere una sede e quella. E quindi chi si troverà a Portopalo potrà vedere queste imbarcazioni muoversi in mare. Le condizioni meteomarine? Le condizioni meteomarine non sono delle migliori, quindi si prevede un vento abbastanza sostenuto, ma noi speriamo comunque di riuscire a svolgere l'iniziativa.